è facilissimo se per te difficile adesso possiamo fare sempre un gameplay insieme online ti posso far praticamente vedere poi ovviamente come crescono i campi farò proprio un video basato sulla coltivazione l'iriratrice praticamente per concimare i campi e la semina poi tra poco penso che sarà pronto e facciamo insieme proprio con la raccolta la coltivazione e l'asseminazione artificiale no 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 l'inseminazione adesso è l'asseminazione perché io gioco anche capisci sempre male sì sì l'asseminazione la città la persona che prima da me lui invece vada manuele sicuro non passa no da qua Dove vanno? Non passate Ovviamente ho fatto questo live Perché Me l'hanno chiesto Come ho mai chiesto anche Un video di Call of Duty Ovviamente poi Cercherò di organizzarmi E far riuscire praticamente Ad accatentare tutti E far riuscire un giorno in giorno Un video diverso Perché visto che lavoro Non riesco a fare più di un Un video diverso Diciamo in giornata Ecco Diciamo che lavoro Diciamo Diciamo La figlia è con mia moglie Isolare Purtroppo è Se hai fatto un certo orario E dorme Cerca almeno di dormire E come hai cercato di lavorare Esatto Bravo No se fai caso Ti sento il cane Ma vi ci sa chi lo vanno Di una cordu No Devo cucinare La festa Di una cordu Di l'uomo E' Da Vabbè Poi Ti spiego Poi Ti spiego Un'altra Un'altra Diciamo Un'altra Diciamo No No Minchia 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 Questa non è la fedora e canarro Ok è morto è sempre trattati lo vana è fatto la fine del cane ho brutto lido allora quando pensiamo è salvando oh doppietta informazione l'esplosione l'abbiamo vista da qui detto questo ci saranno altri serbatoi di napoli nelle dico allora qua dobbiamo fare le munizioni se ne ero eccola qua raga ho urgentemente bisogno di kit medici vabbè la super è pronta questa che mi interessa ma non serve il kit medici dai ma no vabbè super esatto con il kit cazzo un tost è già di gioco ho chiesto un gatto un po tutto cazzo un gatto puoi fai già merda da salitorio il cazzo ah io mi stai sparando da l'altro lato salare il video come lo vedi abbastanza bene o lo vedi che bago altro ok gente ecco cosa dobbiamo fare ci ritiriamo ci ritorniamo alla torre di guardia e la tratturiamo lì avete capito divo letto a divo letto volevo fare guango mi tento ma no ma guango mi tento che fin ha fatto eh ma lì non gioca di scena prima c'era è rimasto fuori perdone è rimasto fuori potevamo tornare a casa dalle nostre famiglie ma siamo rimasti qui a bruciare questo schifo per fermare tutto quanto ci siamo sacrificati poi arrivate voi arrivate provate a mandare c'è la ratifica ma se non fosse già abbastanza di il giugno è voluto il titolare è tu io ero tu no 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 il giugno è voluto il tuo titolare si si su GTA ho sentito ho sentito lo sto invitando non ti senti tu pari prima che ti inviti come te invito alle parti e stare impegnati mi grido stavamo mettendo gta peppe si e poi mi chiamato mi hai chiamato tu con poca ebbè penso domani sarò una live su gta un pochino giocherà anche i miei amici giocheranno con noi vai peppe vanno su uniranno ho un ragazzo di casetta mi raglia ha un altro ragazzo è di montracone o è di casetta esatto si è di montracone esatto lo conosciamo casetta con montracone eh lo so lo so lo so ho capito in che senso e poi giocherà a samurai se lo conosci tu peppe non lo so no che cosa stai srentate assorto 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 ah si i purificatori minchia che strage ma questo magari ho provato moragia dove solare allora domani e la vigilia se riesco a legarmi ora penso ok a più di pomeriggio penso che riuscirò a fare una live non so di quando di quanto durerà e praticamente andremo tutti a festeggiare la natività domani e 24 e si passa in famiglia non davanti al gioco o meno ragazzi occhi che rilasciuto la bomba per costa di raga tutti giù tutti giù scappate 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 è molto boss sì ma c'è un mio troppo io sono con le due ma più troppo io sono giù pepe cura di 20 troppo e cent'ora perché sennò scoppia tutto non ce la fai e mi dispiace salare ricorda che puoi sempre twittarmi sia su twitter o contattarmi su youtube su facebook poi ti rispondo giù 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 gi emmanuele mi porta male allora buonanotte solare allora andiamo su twitter allora come ti chiami su twitter apriamo le casse ora cambia si abbrassi da saccomani lo metti sul canale sa poi il video di vento da pistolero talento robusto 3 3.3 punto 0 32 corazzi buona che non si è fatta i ragazzi ragazzo della fede del cacciatore raga sono le nove e mezza io vado via con mia moglie che se ne ammazza anche io chiudo vediamo domani io chiudo a porto saluto ti raccomando domani mattina è che fa domenica come stamattina le otto e mezza a giudere otto e mezzo anzionare la latta e mezza o tre cose no no 8 è appena scattato 14 e deve essere per le 15 quindi se un minuto di anticipo quando lo metti sul canale il video allora devo scaricare montare e poi lo pubblico perché su twitch già è presente sì la live però sì la live ciao ciao